Di reti con Labrodo siamo ormai abituati a sentir parlare e sappiamo che ad essere dispersa è la preziosa acqua. Meno nota invece, ma altrettanto preoccupante, è la dispersione di gas metano, che c'è ma non si vede. Non è soltanto uno spreco, è un'altra fonte di inquinamento ambientale. A lanciare l'allarme Lega Ambiente, che ha promosso la campagna di sensibilizzazione, c'è puzza di gas. Per il futuro del pianeta non tapparti il naso. Oggi due le tappe in Abruzzo. La prima a Pescara per illustrare i contenuti della campagna. Dispersioni che prima di tutto fanno male al clima, perché sappiamo che il gas metano è 86 volte più clima alterante della CO2, ma è anche uno spreco di gas. Una risorsa così preziosa in un momento di crisi energetica, il costo è anche decisamente alto. Noi disperdiamo attraverso le infrastrutture, stime che variano dall'1 al 3%. La gran parte di queste dispersioni, come si vedono anche dai video che ha fatto la Clean Air Task Force, arrivano da mancate manutenzioni, cioè buchi all'interno di depositi piuttosto che all'interno dei nostri gasdotti. Quindi monitoraggio, manutenzione, delle regole stringenti che obbligano le imprese ad intervenire subito. Serve anche una cooperazione internazionale. Seconda tappa della campagna, inserata a Sulmona, luogo simbolo della lotta alla centrale SNAM, contestata sia dagli ambientalisti che da alcune amministrazioni locali e che crea disagio anche nel mondo politico, con il ministro Cingolani che la sostiene, non supportato da esponenti sia del centro-destra che del centro-sinistra. Si tratta di un'infrastruttura interna e le infrastrutture interne in Italia hanno la capacità di fornire metano per oltre 100 miliardi di metri cubi, mentre siamo a 71 miliardi e mezzo mediamente oggi come consumi. Pertanto è un'opera del tutto inutile e qualora dovesse essere realizzata aumenterebbe ancora di più le bollette degli italiani perché per 40 o 50 anni bisognerebbe pagare l'ammortamento di quest'opera che ammonta a 2 miliardi e 400 milioni. Nei primi sette mesi di quest'anno l'Italia ha importato maggior gas rispetto allo scorso anno, tanto che ne ha esportato 2 miliardi di metri cubi, cosa che non era mai successo. E ci dicono che siamo alla canna del gas. L'Eni in sei mesi ha fatto utili per 7 miliardi di euro, quando l'anno scorso ne ha fatto solo un miliardo, quindi con un utile maggiorato del 600%. Ci stanno ingannando. La realtà è questa e questi che ho dato sono forniti, questi dati, dallo stesso Ministero, quindi non sono dati degli ambientalisti.